Siamo qui oggi per fare memoria insieme con i familiari e tutti gli amici di quello che è successo un anno fa. Fare stare insieme anche con semplicità, però ci siamo assieme. Il futuro stiamo valutando insieme alla provincia, i mari e i monitoraggi che si stanno facendo per capire le dinamiche del ghiacciaio, non soltanto di questo ma di tutte le nostre montagne per capire come arrivare a poter gestire queste situazioni di cambiamento, di mutamento climatico e non solo. È anche un mutamento sociologico se vogliamo dire, c'è un approccio anche diverso da quello che è la montagna o comunque far capire che la montagna non può essere messa in sicurezza al 100% ma noi stessi dobbiamo approcciarci con una modalità di sicurezza, attenzione, in autosicurezza.